Dopo un anno di muro contro muro è arrivata la svolta nel rapporto tra IREN e l'ufficio di presidenza di Atersir, l'agenzia per i servizi idrici e per i rifiuti formata dai sindaci. Il nodo della questione erano gli investimenti della multiutility che il territorio attendeva da tempo. Durante l'incontro, durato circa un'ora, IREN con il nuovo presidente Francesco Profumo ha comunicato l'arrivo di 30 milioni di euro in tre anni per finanziare 48 progetti locali. Una buona notizia, ha commentato il presidente della provincia Massimo Trespidi che plaude al nuovo atteggiamento di IREN. L'esito dell'incontro è sicuramente positivo, dobbiamo definire alcuni dettagli che ci consentiranno di chiudere su un accordo che potrebbe prevedere 30 milioni di investimenti 2013, 2014 e 2015 divisi per 48 progetti. nel triennio che vogliamo far partire con una divisione per annualità 8 milioni per il 2013, per i restanti due anni del 2013, 13 milioni per il 2014, 9 milioni per il 2015. Adesso i tecnici approfondiranno la fattibilità di questa ipotesi e ci rivediamo il 15 novembre con il presidente Profumo per chiudere l'accordo in questi termini. Il presidente Francesco Profumo, come lo scorso incontro, ha preferito non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Nella prossima riunione fissata per il 15 novembre verranno definiti nel dettaglio i progetti legati prevalentemente ai servizi idrici e alla depurazione.